mi presento sono l'ultimo di 18 fratelli tutti nati in francia negli anni 60 ma nel 1972 condotti in italia elmas e sigonella per vigilare tutto quello che navigava sopra o sotto la superficie del mare mille mille avventure abbiamo intrapreso per la patria superato indenni ogni situazione attraversato perturbazioni intere nottate buia emissione dall'albeggiare al tramonto dall'imbrunire alle prime luci dell'albe abbiamo riportato ferite ma ciò nonostante abbiamo sempre trovato la strada di casa fiere di quanto fatto e desiderosi di tornare subito a volare grazie al nostro potente radar al grande oblo all'invidiata autonomia abbiamo cacciato sommergibili abbiamo soccorso chi si trovava in difficoltà abbiamo vigilato affinché ogni ombra che si celava fosse illuminata abbiamo volato per 45 anni sul mondo e sul mediterraneo ognuno di noi per circa 15 mila ore per un totale di oltre 250 mila anche per più di 19 ore senza rifornirci sono br 1150 atlantic il papà rassicurante per tutti gli amici e il cacciatore da evitare per i nemici sono l'ultimo fratello che ben congedo ma prima di chiudere le ali di consegnarmi definitivamente alla storia voglio salutarvi e dirvi che sono stato orgoglioso di portare il tricolore nel mio motore nella speranza che susciterò orgoglio nel cuore tutti gli equipaggi che mi hanno accompagnato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti